Il 2, 3 e 4 ottobre, dalle 9.30 fino alle 22, Piazza del Popolo ospiterà la 66esima edizione della Mostra dei Fiori e delle Pianto Ornamentali. Lo svolgimento della manifestazione, che si è decisa di organizzare dopo aver ricevuto parere favorevoli in ambito sanitario dall'Asur, sarà però rivoluzionato per rispettare tutte le normative anti-Covid. Niente cerimonia di inaugurazione o spettacoli, obbligatorio l'utilizzo di mascherine e gel igienizzanti presenti anche all'interno della fiera e la decisione di allestire tre ingressi differenti sui lati della piazza, che saranno contingentati e controllati dalla Protezione Civile e dagli agenti della Polizia Locale, i quali, in caso di assembramento, potranno momentaneamente chiudere gli accessi. All'interno degli stand, invece, l'attività di controllo sarà affidata ai 22 espositori presenti per questa edizione. L'assessore con delega alle attività economiche Francesca Frenquellucci ha poi chiarito le motivazioni che hanno portato a confermare la mostra a mercato dei fiori dopo la decisione di qualche settimana fa di cancellare invece la fiera di San Nicola. Come l'abbiamo già spiegato, nella fiera di San Nicola avevamo avuto tutti pareri negativi. Di conseguenza ci siamo sempre confrontati anche con gli altri comuni, quindi anche con l'assessore di Fano e altri assessori di altri comuni abbiamo deciso di non fare la fiera, poi chiaramente ne ho parlato in giunta, cioè la fiera di San Nicola parliamo di spostare 11.000 persone su due chilometri, quindi era anche difficile gestirla. Mentre invece la mostra dei fiori, ma come altre mostre che stiamo organizzando per i prossimi mesi, sperando che la situazione non peggiori, sono diverse perché riesci a controllarle, come il mercato del martedì, oppure la stradomenica o anche il mercatino dell'antiquariato, sono mostre specifiche e quindi non si muovono così tante persone. Poi abbiamo chiesto un parere all'Asur e l'Asur ci ha dato parere favorevole, ci saranno all'interno della piazza delle entrate e delle uscite, sarà tutto sotto controllo, ci sarà la protezione civile e anche i vigili urbani. La città risponde sempre molto bene a questa manifestazione, quindi siamo tutti concordi nel farla con le norme anti-covid, anche a Fano abbiamo visto che hanno funzionato abbastanza bene, non abbiamo avuto difficoltà nel condigentare le persone, c'è la protezione civile, ogni stand all'interno abbiamo tutti i cartelli di stianzamento e disinfettanti, quindi è andata abbastanza bene e ci auguriamo che sia anche per Pesolo che non abbiamo nessun tipo di problema. Ci aspettiamo una buona fiera comunque, anche con le disposizioni, perché comunque abbiamo visto che ormai ci si convive con queste regole, si riesce a lavorare uguale, con la massima attenzione, vedo che la gente rispetta, come vediamo nei nostri garden hanno sempre le mascherine, ci dà comunque molta forza. Il covid, diciamo che se prendiamo anche il nostro esempio della mia azienda o anche delle altre, ci ha stimolato molto, quindi ci siamo attrezzati, ci siamo adeguati i garden con più spazi, abbiamo reagito molto bene, vedrete delle belle cose, tutti noi portiamo novità, cerchiamo di rendere i balconi in questo momento autunnale, ma anche le fioriere e i giardini molto più verde, il covid ha sensibilizzato molto al verde anche perché stando più in casa hanno comprato più piante. Confermati poi, come ogni anno, gli appuntamenti collaterali all'evento, come la mostra d'autunno nella sala laurana della prefettura Bonsai Pesaro 88, aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 22.00.